Si completa lo schieramento, tutto pronto per il segnale, i cavalli sono agli ordini dello starter. Partiti. Oro di Irlanda, veloce in vantages nei confronti a largo di Touch & Fly. Si sposta all'interno invece Gelido, incanto tra i due. Nunnale, primi metri di gara, quindi Matrioska con all'interno City Napoli. Performance largo, Blu Cobalto in coda. Cali che stanno percorrendo l'addirittura opposta, Oro di Irlanda sta graduando in avanti. Nunnale accompagna secondo, dietro ai due Gelido, incanto, quindi Matrioska la grigia su Touch & Fly, schiena alla quale c'è City Napoli. Coda Sunrise Spirit con all'esterno Performance, Oro di Irlanda sulla piegata conclusiva. Mantiene una lunghezza abbondante di vantaggio su Nunnale che lascia terza ad uguale intervallo all'interno. Gelido, incanto, quarta di fuori, Touch & Fly, quinto a contatto, City Napoli. Matrioska, performance alla ricerca del barco Blu Cobalto da molto lontano. Noretta, Oro di Irlanda in vantaggio, Nunnale che accompagna a largo, tra i due Gelido, incanto, poi prova Touch & Fly, Performance che si sposta per corsia esterna in anticipo su City Napoli. Questi a giocarsela, Nunnale che attacca a largo, City Napoli, Performance sul passo, Oro di Irlanda, Gelido, incanto che si ferma, è passato Nunnale, a largo, Performance che scatta tra i due, City Napoli. Poi Blu Cobalto, questi a giocarsela, City Napoli, Performance, a largo Blu Cobalto, tre cavalli in aperta lotta e sul palo, City Napoli, Performance all'interno, Nunnale, poi Blu Cobalto. Da rivedere, da rivedere, tre cavalli in aperta lotta, sono all'interno, Nunnale, City Napoli e Performance. I tre in diagonale, questo per quanto riguarda la Tris. I tempi di galoppo saranno determinanti, strettissima, strettissima, tra il numero 8 di City Napoli, il 10 Performance, terzo è il 2 di Nunnale, poi Blu Cobalto, che è quarto e quinto Oro di Irlanda. Questo per la Tris, quartè, quintè. Abbiamo ancora un replay, erano pochi al via, però dobbiamo dire che tre cavalli nello spazio di una testa è stata una corsa ancora una volta molto bella qua al Visano di Firenze. L'impressione avuta in diretta, ma è soltanto la mia impressione, per City Napoli, su Performance, poi Nunnale, quarto Blu Cobalto per il quartè e per il quinto Eoro d'Irlanda, che chiude al quinto. Questo è quanto.